La procura di Oristano in Sardegna ha aperto un fascicolo contro i gnoti per gli incendi che hanno distrutto oltre 20.000 ettari di bosche e macchia mediterranea in quasi tre giorni. Le indagini confermerebbero la natura colposa del rogo del Montiferru, partito da un'auto che ha preso fuoco e poi propagatosi alle campagne circostanti. Mentre per gli incendi Ausellus, Seneghe e Cabras, sempre nell'oristanese, gli agenti del corpo forestale avrebbero trovato gli inneschi usati dai piromani.